Sindaco, lei ha fatto una citazione, io seguivo Papa Voitila e lui diceva mai scendere dalla croce. Io sono un sindaco che ha lavorato bene, voglio continuare a lavorare, poi ha detto io non ho mai presentato dimissioni per ritirarle dopo 20 giorni. Che cosa voleva dire? Voglio dire che la legge prevede questo, qualche volta diventa un escamotage anche magari per buoni fini, per buoni risultati, magari per dare uno scossone all'ambiente politico, magari anche per poter ottenere per la propria città qualche vantaggio, qualche risultato oppure semplicemente magari per applicare quelle normali tecniche di condizionamento nei confronti della propria maggioranza o nei confronti di chi in qualche modo crea tensioni al lavoro quotidiano difficile di un sindaco. Io quei momenti difficili li ho attraversati, li ho passati e ho ingoiato anche grossi bocconi però chi sta in politica sa che anche questo fa parte del gioco e che magari quello delle dimissioni da ritirare poi è un jolly che bisogna utilizzare non più di una volta. Io quel jolly non l'ho utilizzato finora e sono orgoglioso e contento che ciò sia avvenuto e ho detto che ho avuto un mandato, ho fatto un contratto con i miei elettori i quali mi hanno premiato cinque anni fa, mi hanno dato un largo consenso e vado avanti con la mia squadra sul lavoro intrapreso ovviamente questo non per concludere soltanto questo mandato ma per aprire un nuovo mandato perché ci sono poi grandi appuntamenti su cui abbiamo lavorato e su cui dobbiamo ancora capitalizzare risultati fondamentali per la nostra comunità.